Ciao Ciao Siamo stanchissimi Siamo stanchissimi Molto stanchissimi Stanchissimi proprio Oggi abbiamo fatto una giornata di stracollaborazioni Tra youtuber C'era un sacco di gente Ciao tesori a tutti Ciao Sono stanca Tantissima infatti si vede tantissimo che sono stanca Tanta gente che passa dietro Ciao Sara Ciao tesori che fatti di bello Ciao No bella oggi proprio no ragazzi Sono veramente stanca Quando usciranno le collaborazioni non lo so Dipende da quando riusciamo a tagliarli Perché sono tanti video abbiamo fatto tante Collaborazioni uscirà un video sul canale Di Muriel Martina Piccu Sul mio Su Non mi ricordo Su tantissimi 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 E c'è anche Sofia E Insomma divertentissimo Sarà una bella giornata però stancante Eh adesso lo so che è andata via Perché aveva bisogno di andare Eh vabbè in realtà mi si è anche abbassata un po' la voce Qui abbiamo Luca 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 Ciao Ciao Ali Sì Sì c'è Ciao ragazzi Ciao ragazzi Ciao 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 Vi faccio vedere le melanzane Ciao 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 Eleonora Ciao 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 Ilaria Ciao Hai avuto il cd Marti Saluta Ciao Ciao Shanti Ciao che strano Sì Per me va benissimo Aspetta Sì saluta Ciao Letizia Ciao Ciao Human Safari Human Safari Ciao ragazzi Saluta Allora siamo 216 Ciao Arianna Allora questa è la melanzana più bella di tutti Cioè guardate cosa hanno fatto Cioè questa il problema è che marcirà Però io la vorrei troppo mummificare questa melanzana Con tutte le foto mie di Michele Cioè è stupenda No ragazzi è meravigliosa Dai bellissima tipo Poi mi hanno portato Due melanzane Poi Tre melanzane Poi Quattro melanzane Cinque melanzane Sei melanzane Sette melanzane Ecco un'altra Ci facciamo una super parmigiana Le melanzane Marti vieni Mi devi spiegare delle melanzane Ragazzi non sanno delle melanzane Allora Allora adesso mi dovete scrivere qua sotto Chi di voi sa del Alice e le melanzane Scrivetemelo Perché dobbiamo spiegare a Martina Le melanzane Le melanzane Chi è che lo sa? Uno Due Tre Tre Quattro Quattro Vedi guarda 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 Loro sanno tutto Guarda 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 lo sanno Vengo con Andre Certo devo fare il video con lui Allora praticamente ti spiego Che Un metodo infallibile per far passare il singhiozzo È Immaginare una melanzane Che in questo momento ce l'ho addirittura Una ragazza mi ha portato anche il preservativo Vabbè Insomma Melanzana Devi immaginare di mettergli il preservativo Immaginare Dei comprare quelli super mega extra raggio praticamente Ma chi se ne frega Vabbè Ci sono le cose tecniche Ma ti giuro Ti passa il singhiozzo e nulla È così È così Era questo quello che avevi detto prima per il sushi Prima quando stavamo tornando dal sushi hai detto melanzane per le parti Sì esatto perché poi io e Michele e Pot abbiamo fatto una periscope E Michele ha detto Tweetiamo tutti hashtag Alice e le melanzane Siamo andati in tendenza con hashtag Alice e le melanzane Quindi da allora vedi tipo mi mettono tutte le melanzane le mie amiche queste cari tesori Quindi Sono innamoratissima di voi perché Ah una ragazza guardate mi ha portato queste cose tipo Questi disegnini Mi piacciono tantissimo A parte questa che con lo screenshot tipo Alice e Codri ha messo like Tutte queste cose con la mia cover Tutte queste cose carinissime Un'altra mia mamma Ah mi hanno dato tipo i nick da seguire un sacco di cose Va bene Ehm Comunque Ah Alice e le melanzane A Bolzano non vendono i cd Ma no arriverà Forse dai 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 grazie tesori Che carini che portate le melanzane a Michele Ma poi a me dispiace tantissimo Tipo anche a Michele gliel'avete portata a Latina E cioè vabbè da ridere tantissimo Dai Ok Ok Le magliette con l'hashtag? No non ho beccato le ragazze Alcune mi hanno detto che non sono riuscita a vedermi Che tristezza Ciao Noemi No tesori Io non l'accompagno Michele negli store Mi dispiace Mi dispiace tantissimo Però spero di Veramente di Vedervi Ma poi Mi muovo insomma Cioè ieri è stata una giornata bellissima Ho visto Mi avete taggata in alcune foto Bellissime mentre ci abbracciamo Bellissime proprio Infatti Voglio poi fare tipo collage Con tutte le foto Alcune Delle foto E poi postarla Stasera posto una foto Che è bellissima Io che abbraccio una ragazza Mi piace tantissimo E siamo in un posto dove stiamo facendo tante collaborazioni Siamo stati tutto il giorno Abbiamo fatto collaborazioni tra Kamet The Show Sofia Muriel Marti Tra un pochino però andiamo via E vabbè ragazzi Io scappo Perché mi stanno chiedendo di andare a registrare di là L'ultimo video E basta Ti mando Vi mando Ti mando Un bacione enormissimo Grande 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 E Boh Ci vediamo prestissimo nella prossima peresco Magari la faccio stasera Ciao amici Vi voglio tanto bene Ciao Non si chiude Ragazzi Ok Ciao